buonasera a tutti siamo collegati in diretta con il dottor francesco garitano biologo nutrizionista ciao francesco buonasera grazie per aver accettato il mio invito ciao daniel ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo questa diretta resta registrata condividetela con il link che mettiamo nei commenti perché le condivisioni sono fondamentali per diffondere importanti informazioni che ci darà dottor garitano questa sera in diretta per essere sempre aggiornati sulla nostra libera informazione indipendente potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale youtube e meglio di ieri cliccando sul tasto iscriviti e attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche mettete anche il like a questo video francesco eh io ho intitolato questa intervista dieta per il sistema immunitario perché non si parla mai abbastanza dell'importanza del sistema immunitario delle difese e di quanto siano importanti alzare le difese specialmente nel periodo eh di di cambiamento climatico ehm tu sei ideatore del metodo antinfiammatorio ma che cos'è? Allora eh la dieta antinfiammatoria o hai detto meglio il metodo antinfiammatorio l'ho diciamo ideato quando ho cominciato ad occuparmi di patologie diciamo autoimmunitarie eh ne poi ritengo sempre l'infiammazione eh come la base di tutte le patologie perché noi parliamo di infiammazione ovviamente per chi ci sta ascoltando eh infiammazione di basso grado silente quella che noi non vediamo quel fuoco interno che cova dentro di noi che è alla base di tutte le patologie quindi in pratica eh siamo tutti un po' infiammati e non ce ne accorgiamo è forse un motto che veramente mi piace portare avanti perché effettivamente se tu non fai scendere questo processo infiammatorio ovviamente quello che noi vediamo le patologie che noi vediamo dalla tiroidite di Hashimoto ma tutte le disfunzioni della tiroide la fibromialgia fino ad arrivare al cancro addirittura hanno questa questa forte base infiammatoria quindi tu devi cercare di con tutto il metodo che poi è riduttivo oggi parlare soltanto di alimentazione ma bisogna parlare di tutto uno stile di vita ecco perché metodo perché nella nella in quanto ho redatto i vari punti della del metodo antinfiammatorio ho pensato soprattutto a questo discorso cioè cerchiamo di capire si sta mangiando male alla persona che quindi è una parte però andiamoci a concentrare pure come sta dormendo sul sonno che nessuno ne parla di questo sonno il sonno ha una sua architettura eh ci ha farsi rem non rem nella notte ma ovviamente io me ne occupo da anni di sonno delle problematiche del sonno vedo sempre persone che mi risferiscono la mattina mi sveglio stanco già quello è un indicatore che tu la notte non hai dormito bene non hai fatto un sonno ristoratore hai sei stato nelle fasi superficiali del sonno e quello non è un sonno che ti ti porta a grandi a grandi cose poi ovviamente c'è la volta al sonno c'è da da curare l'intestino altro altro tema molto importante dalla che è tutto l'ecosistema intestinale perché ancora sento parlare eh di eh curiamo l'intestino diamo il probiotico no dobbiamo capire dobbiamo rimettere in ordine l'eubbiosi cioè il processo l'equilibrio tra i batteri buoni batteri cattivi dobbiamo andare ad agire sulla su se c'è una permeabilità intestinale a curare quindi gli enterociti la barriera no che fa da filtro è nata per fare da filtro poi ricordiamoci che la natura è stata molto intelligente Daniel perché addirittura ha messo il 70 per cento del sistema immunitario nell'intestino perché la superficie è più esposta praticamente all'esterno quindi è una cosa importante questa quindi prendiamoci cura dell'intestino poi c'è il muco la c'è ci sono tante altre cose quindi tutto l'ecosistema intestinale ma poi andiamo a ricordare anche di quella corretta idratazione cerchiamo di valorizzare il cibo eh la qualità del nostro cibo più perché pensare a cosa mangiare cerchiamo di trovare del cibo buono che oggi è difficilissimo andare a trovare del cibo buono eh bio che a chilometro zero italiano e c'è tutto un discorso sui cereali e che sono cereali bisogna capire where extra where bisogna capire da dove arrivano se arrivano dalla dalla pakistan all'india arrivano dalla eh la Spagna per esempio ci sono tante bisogna dare attenzione anche dalla provenienza di queste di queste sostanze che noi andiamo a mangiare noi ricordiamoci che come diceva Hippocrate era il cibo era una medicina ma lo diceva in tempi non sospetti e che feuerbach diceva noi siamo ciò che mangiamo e quindi insomma alla fine persone in tempi non sospetti ci hanno portato a dire queste cose poi non dimentichiamoci il movimento sul movimento veramente sui miei social cerco veramente di fare delle sfuriate su questo discorso no perché sento sempre dottore ma io faccio tre chilometro al giorno dottore io porto il cane al passeggio dottore faccio quello dottore c'ho tre piene di casa beato te che c'hai tre piene di casa io rispondo perché avrai una bella casa un bel giardino un bella cosa sì però quello non è esercizio fisico perché noi io distingo quello che tu devi fare tutti i giorni che sono i famosi dici mila passi quello che vuoi che quelli che saranno a più l'esercizio fisico che insieme ti danno il beneficio cioè l'attività fisica è il più potente farmaco antinfiammatorio cioè questa è una cosa che deve passare come messaggio perché veramente sull'attività fisica secondo me non si insiste tanto o comunque non gli si dà l'importanza perché veramente dovremmo cercare di fare proprio dei progetti per invogliare le persone a cominciare a spingerli al movimento perché non so se lo sai Daniel siamo siamo il primo paese con il tasso di sedentarietà abbiamo raggiunto il record penso no quindi e penso che siamo nei record negativi e in questo caso qua no ehm quindi ci sono tutto tutto una serie di cose per per cercare di far abbassare il concetto infiammatorio eh questa infiammazione io ripeto questo metodo è stato pensato per il discorso autoimmune ma poi ci ho riflettuto bene quando ho scritto il libro ormai siamo arrivati al libro eh ecco questo che stai facendo vedere siamo arrivati anche a delle più ristampe perché è andato forse uno dei libri più letti è arrivata a un punto che a un certo punto mi sono accorto che forse era da applicare a tante altre cose quindi non solo al discorso tiroideo al discorso tiroidite di Hashimoto per questo è stato pensato ma a tutte le altre situazioni quindi riflettiamo su questo concetto perché veramente è molto importante e parlato del di quanto sia importante muoversi ma soprattutto farlo nel nel modo giusto e vogliamo ripilogare un attimo i benefici del movimento ma soprattutto ci deve essere l'importanza del paziente credo la volontà allora si è una bella domanda allora discorso che molti quasi tutti i pazienti mi capita tranne se non viene lo sportivo di turno io seguo molti pure gli atleti no eh anche di alti livelli pure ehm però diciamo la maggior parte l'ottanta per cento non è così no deve essere guidata presa per mano eh eh è guidata un attimino tanto è vero che ho fatto partire un progetto a Bari che ho visito in tutta Italia ho visito da Milano fino a scendere fino a Catania a Bari ho trovato una una bella collaborazione di eh un centro eh che mh per cercare di ehm invogliare le persone che ti insomma vai verso in questo centro eh e loro ti dicono cosa come poter fare piano piano incrementare la farlo gradualmente perché certo tu non puoi se tu sei sedentario non puoi partire subito a fare sport alla grande no? Eh io ormai mi alleno da tanti anni ehm ovviamente ho fatto tutto con gradualità perché altrimenti poi addirittura può essere controproducente eh addirittura molti per chi ci sta seguendo eh diciamo per esempio nel caso dello sport del calcio no? Che se i giocatori giocano ogni ogni tre giorni ci sono competizioni molto ravvicinate a volte rischiano di farsi male l'infortunio eh ho fatto molti diciamo corsi sulla su questo argomento qua no? Perché sì perché sì perché c'è l'infortunio perché il corpo viene spinto forse troppo eh a lei in questo caso però noi stiamo ne stiamo parlando del di invogliare la persona a farlo in modo graduale è logico che deve cominciare piano piano però non deve sottostimarlo questo 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 dire sì perché dalla parola gradualità alla parola eh deve iniziare gradualmente alla parola faccio solamente tre chilometri c'è un c'è un c'è una distanza abnorme tu lo devi fare perché è importante poi addirittura mi chiedevi prima i benefici ma i benefici c'è addirittura l'antidep c'è uno studio che parla dell'attività fisica come antidepressivo più forte degli antidepressivi di vecchia generazione cioè se uno pensa solamente a questo è quanto quanti farmaci antidepressivi si prescrivono eh purtroppo eh soprattutto poi in in America c'è forse America tocca la punta più alta degli antidepressivi eh tu potete siccome tu facendo sport fai liberare endorfine a livello cerebrale cioè tu migliori pure quella situazione eh mandi più arriva più serotonina arriva arriva una situazione migliore poi eh l'antistress per per eccellenza lo sport io quando faccio sport quando finisco di fare sport sono più contento di prima magari all'inizio c'è quella famosa non so se ti è mai capitato quella famosa quel timore dici ma ma ci vado non ci vado sono stanco ma ma forse me quando quando eravamo ai sui banchi di scuola no dici mo mi chiama l'interroga non mi faccio l'interrogazione poi vai alla lavagna e magari eh sei bravissimo la stessa cosa capita nella nell'attività fisica dici no oggi forse no il tempo è brutto eh ecco le scuse le le varie le varie cose sono mille no eh io te le potrei raccontare cinquantamila cose no eh da da una signora di Lecce che mi diceva c'è sempre vento a Lecce io non faccio attività fisica ma scusa è possibile che tutti tutte le volte c'è vento a Lecce sì forse è ventosa a Lecce però tutta sta storia mi pare stare era una scusante no ehm che anche perché questa questa è una cosa importante le scuse che ti mettono sempre davanti comunque io poi quando finisco l'attività fisica mi sento più forte di prima cioè mi sento molto meglio di e quindi ecco io penso soprattutto al dopo ecco per incoraggiare una persona a fare una cosa dici guarda inizia però poi mi dirai come ti senti quando hai finito e soprattutto se rendi costante quello che riesci a fare poi vantaggi sulla per esempio molte molte persone sono stitiche no ehm ecco tu facendo un movimento muovi rimuovi anche la peristalsi intestinale fai lavorare meglio la tiroide nella fibromialgia te ne posso dire un'altra il farmaco vero e proprio che funziona bene è proprio l'attività fisica ehm ovviamente fatta con una certa gradualità perché non devi andare nel fibromialgico che ha già problematiche no di 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 movimento lo deve sovraccaricare e far uscire l'acido lattico no ovviamente devi andare con molta gradualità però è veramente funziona tantissimo quindi l'attività fisica eh io addirittura te le dico un'altra daniele una cosa che metto nei nei miei piani alimentari quando li consegno è una scatolina dove ho cancellato aspirina ho cancellato il nome del farmaco e c'è scritto movimento e ho messo tutte le eh i benefici che ha il movimento proprio per far capire per far capire veramente che stiamo dobbiamo cercare di capirci che stiamo sfruttando tutte queste cose qui eh il farmaco più potente eh però non ce ne forse non ce ne rendiamo conto non ci può dimagrire in modo efficace senza muoversi anche se si mangia bene quindi il movimento è fondamentale assolutamente sì perché la la tu puoi fare tutta l'alimentazione è corretta no eh ma veramente fatta nella curata nei minimi termini però se tu non hai anche la un altro libro che ho scritto perché l'ho scritto i cinque un altro libro che ho scritto è ehm attiva il metabolismo mangiando eh ed era una cosa dove ho scritto che i due attivatori metabolici per eccellenza erano fare una buona colazione ricca mangiare bene al mattino e muoversi cioè sono i due attivatori metabolici per chi ci sta seguendo diamo questi due consigli fate fate una ricca colazione cercate di mangiare meno la sera seguito una crononutrizione no cerchiamo di alleggerire nella parte finale della giornata e poi soprattutto cercare di allenarsi ma dare una costanza nell'allenamento che se uno si allena una volta sola a settimana è fatto pochissimo cerchiamo di cominciare a dire vabbè aspetta l'ideale è anche quello di farsi seguire perché se tu ti fai seguire ehm è meglio soprattutto per chi non l'ha mai fatta può fare un esercizio sbagliato magari si può sovraccaricare perché con l'entusiasmo di voler fare di più nel no cerchiamo di anche se c'è la possibilità di far seguire però ormai sul web pure ci sono anche dei canali youtube per esempio ci sono tanti video dove c'è anche il personal trainer dove tu benissimo segui il video e fai gli esercizi che fa lui con i tempi di recupero di riposo tra un esercizio e l'altro quindi volendo non ci manca nulla daniel nel in questo senso ci manca solamente la volontà perché il primo libro che ho scritto il dimagrimento parte dalla testa se tu veramente sei determinato costante eh perseverante tutto il resto allora ci riusciremo veramente nel nostro intento perché tutto da lì parte parte tutto dalla testa come dico come nel dimagrimento ma come anche nel voler stare bene nel risolvere una problematica di salute se non c'è la voglia è difficile che ci riusciamo quindi devi essere un bravo come ho scritto tempo fa in un articolo un bravo psicologo il nutrizionista dovrebbe essere una persona che comunque sa leggere un pochino nel tuo codice della testa no perché davanti è una cosa bella che io mi piace ricordare sempre di dico è riflettere ma chissà chi entrerà quando faccio studio no quindi faccio io ormai sono faccio studio per tante ore ogni volta dico ma chissà chi mi entrerà in chissà che caso avrò certo io mi pongo da questa parte di vedere chi è che entrerà da quella porta no allora in questo caso cerco di guidarli nel modo miglioro allora passiamo qualche commento francesco danni ci scrive c'è sempre il momento titubante prima poi la soddisfazione benessere di averlo fatto io cammino circa un'ora al mattino però un male a te a lui e sì diciamo che allora anche la dani daniela credo daniela il discorso è quello bisogna cominciare gradualmente bisogna cercare di vedere se hai anche degli appoggi buoni la scarpa importantissima io dico molto spesso prendetevi scarpe buone e anche i calzini buoni per perché a volte il piede magari viene viene sollecitato poi dipende se dan daniela in sovrappeso o meno quindi perché magari andare subito su una un impatto duro col suolo non è ideale poi c'è una ci sono delle tecniche anche della sulla corsa sulla sulla sul farlo no camminare un po col busto un po avanzato ci sono delle delle cose che uno può imparare però guarda basta andare su su dei andare un po su dei video sui dei tutorial come 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 posizionarsi bene nella nella corsa perché nella c'è anche ci sono io ho fatto tanti corsi di questo tipo qua e quindi ci vorrebbe veramente un'ora e più per spiegare come la come si deve come com'è la corretta posizione nella corsa però eh anche un movimento sbagliato in questo caso ti può creare quel problema a tallone tu tra l'altro hai scritto anche un altro libro di quelli di cui parlavi prima che SOS sistema immunitario diete stile di vita per difendersi dalla minaccia di patogeni e questo è l'ultimo libro sì questo è stato scritto da me eh con insieme ad altri eh otto professionisti sempre di ehm a livello nazionale veramente l'ultima opera perché ne sto scrivendo un altro eh il sesto che uscirà penso prima della fine dell'anno che sulla fibromialgia ma questo è l'ultimo qui ho scritto veramente è nato nel periodo del del covid però non vuole parlare di covid basta ne abbiamo ne abbiamo sentito parlare tanto eh io ricordo alle persone che ci stanno seguendo che noi siamo siamo stati sempre bersagliati da eh virus continueremo ad eh ad esserlo ehm e ce ne saranno altri ma non solo virus eh se vuoi rispondiamo alla domanda di Daniela eh se puoi un pochino qualche chilo in più uso le salano soprattutto cammino velocemente allora mh sì diciamo che va bene come fai eh cerca ecco soprattutto una la giusta tecnica della 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 corsa cerca di alternare lento il lento il veloce cerca di fare un po' di allenamento cerca di capire gli appoggi si appoggi bene tutto il resto e se vedi lo vedi anche dal consumo della scarpa no nel senso per vedi un pochino com'è la situazione cioè non ci vuole diciamo una una laurea per capire come se stai se stai poggiando male e vedrai se vedi un po' fai da te per capire come se sta procedendo no stavamo dicendo del della noi saremo sempre bersagliati da eh patogeni ehm infatti l'idea mia nella quando ho scritto il libro è di dire eh guardate eh amici miei bisogna ecco come questa figura che c'è che alza bisogna cercare di alzare questo scudo eh lo scudo immunitario perché noi ehm ce ne siamo dimenticati lo trattiamo male eh c'è una 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 famosa eh presso presso spunto da una fiabba da una favola non so che cos'era la la cicala e la formica ehm e ho scritto vuoi ehm vivere da eh formichina o da cicala ce la voi tutti sapete no che cosa voglio dire avrete sentito la la storia della cicala e della formica ma ve la dico in breve la cicala e la formica fa tutto un lavoro un lavoro certosino comincia dalla ecco da questo periodo a portare nel suo formicaio i vari le varie riserve le varie le varie sostanze che gli servono per affrontare l'inverno la cicala no la cicala è più vive vive bella cantando fino all'ultimo non si preoccupa un po' di niente viva la giornata sì dovremmo vivere dovremmo vivere daniele un pochino la cicala per alleggerire un pochino i ritmi di vita sicuramente però la formichina c'è un vantaggio nel senso che quando arriva poi il periodo diciamo autunnale dove col freddo diciamo questi patogeni magari prendono un po' più forza no più ogni anno è stato così l'abbiamo visto col virus dell'influenza non abbiamo visto con i vari con i vari virus stagionali eccetera eccetera ecco quindi non solo non solo nel caso covid eccetera eccetera bisogna cercare di rafforzarlo ma volutamente in questo libro la parte integrativa l'ho messa come parte finale perché molti altri libri che ho visto essere scritti stati scritti in questo periodo cioè nel periodo della nel 2020 in quei periodi la insomma piena pandemia pieno lockdown erano libri dove si diceva si parlava dell'integratore del dosaggio si parlava di quello a parte che tutto deve essere contestualizzato per la persona no non è che dici vabbè prenditi ti faccio un elenco di vari integratori e hai finito tutto la no assolutamente poi sappiamo benissimo l'importanza della vitamina d la regina del sistema immunitario la vitamina c è importantissima nutre diciamo i guerrieri no i guerrieri che devono aiutarci nel combattere no soprattutto eh è importante la lattoferrina ne ho fatto ho fatto varie anche dirette sulla lattoferrina molto importante il suo il suo meccanismo ma non non la scopriamo oggi la lattoferrina perché è nel latte proprio materno no la mamma lo trasferisce ecco perché l'importanza dell'allattamento oggi purtroppo chi non allatta avrà problemi poi futuri il bambino no di allergie di problematiche autoimmuni ma soprattutto la lattoferrina insieme poi eh a questa dalle istruzioni da mh da rinforza all'immunità innata cosa importantissima quindi se tu non allatti il bambino sarà più deboluccio sarà più esposto alle varie cose quindi però a parte il discorso integrativo che sono questi che ho nominato più o meno c'è la quercetina ci sono anche altre altre sostanze il colostro ma eh se tu si ti concentri solo all'integratore eh e non curi tutto il resto abbiamo detto dieta fatta bene di qualità non diete ipocaloriche perché l'ipocaloricità delle diete ormai sono tutte diete ipocaloriche quelle che abbiamo in circolazione se vuoi poi ti dirò due cose sull'ipocaloricità come la penso eh piena di zuccheri siamo ormai in una società ormai dove lo zucchero la fa da padrone lo zucchero alimenta i patobionti cioè gli diciamo i batteri diciamo patogeni eh dobbiamo curare il sonno dobbiamo curare l'idratazione dobbiamo curare eh ecco abbassare i livelli infiammatori e poi alla fine se vogliamo pensiamo anche all'integrazione ma se tutto insieme all'attività fisica se mi stavo dimenticando la parte più importante che poi sono state dette pure delle cattiverie sull'attività fisica in quel periodo del covid Daniel eh il paziente uno non lo ricordi eh quello di Codogno e dice eh allora guarda quello era sportivo però si è ammalato di covid e poi eh ecco lui venivano due maratone mezza maratone non so che aveva fatto due due eventi ravvicinati ecco il troppo ha storpiato cioè nel senso che quando perché poi quando si va in sovraccarico di allenamento eh il virus trova l'autostrada perché quando il corpo è infiammato infatti i casi più gravi di covid sono quando trova la persona infiammata quello che abbiamo detto prima è è straimportante i casi più gravi di diciamo dell'infezione da SARS-CoV-2 è stata quella di trovare vitamina D sotto i piedi della gente eh trovare persone infiammate eh guarda caso i diabetici gli obesi e tutta una tutta una serie di patologie che hanno una forte base infiammatoria eh il virus trovava una strada aperta per entrare no? E ovviamente quelli erano quelli che andavano a finire le terapie intensive in modo più netto ehm però per farti capire dove come la falsità di quelle notizie dice chi fa sport si ammala lo stesso no? Se tu lo sport lo fai e lo fai secondando anche i tempi di recupero senza andare in overtraining, in overreaching cioè in quelle situazioni di stress e allora se tu non stressi il corpo allora è un po' è importante Francesco ma come in me non si parla mai dell'importanza del sistema immunitario? Bella domanda bella domanda Daniel e purtroppo ve lo sono chiesto pure io me lo sono chiesto tante volte pure io perché ormai le informazioni eh sono sempre le stesse no? Eh non le ripetiamo perché ovviamente sarebbe ormai le abbiamo sentite tutte le informazioni che passavano nelle reti televisive eccetera eccetera non voglio essere qui a farlo però dico io caspita a parlare eh ma anche un'oretta e alla settimana di 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 sistema immunitario di come tenerlo eh di come tenerlo allenato eh e me lo sono chiesto varie volte non è vero che il libro è è una delle diciamo delle muse ispiratrici di questo SOS sistema immunitario è proprio di questo io non ne sentivo parlare in quel periodo di aiuto alle nostre difese sia quelle innate che quelle acquisite cioè il primo intervento che il secondo intervento che fa il sistema immunitario ma e mi domandavo ma perché non ne parliamo forse sarà scontato no non è vero questa no non è scontato forse perché non conviene a nessuno parlare di sistema immunitario ma forse eh rimettiamoci il forse dubitiamo eh siamo sempre in buona fede ecco in questo caso cerchiamo di usare la buona fede eh però qualcuno lo deve fare di dire guarda perché noi noi non stiamo demonizzando la terapia medica assolutamente perché anzi eh dopo che si è capito che questo virus SARS-CoV-2 si legava agli ai recettori ACE e praticamente andava poi ad sul sistema della ehm dell'angiotensina l'angiotensina 1 e l'angiotensina 2 si è capito che poi si portava inattivando l'ACE che converte l'angiotensina 1 in angiotensina 2 si è capito che l'angiotensina 1 andava in eh sul plus andava in quindi ad aumentare l'angiotensina 1 aveva quell'effetto diciamo ehm pro infiammatorio eh e poi il problema del covid è stato anche quello al discorso della delle trombosi eh che insorgevano quella quella scarsità di ossigeno che non la cellula non riusciva a prendere quindi ecco perché molte persone che venivano intubate e diciamo non riuscivano ad utilizzare l'ossigeno quindi effettivamente è stato un virus eh diciamo nuovo ci ha preso un po' alle spalle effettivamente questo SARS-CoV-2 poi si è capito del tutto però dico io nel frattempo si poteva un attimino parlare pure della del sistema immunitario dire accanto a questo accanto alla terapia medica eh fatta bene dico quella fatta bene perché poi eh se parliamo del paracetamolo eh la famosa ormai credo che si possa dire no eh la vigile del famoso paracetamolo è libera è libera attesa eh no così non è non era non era possibile infatti poi è stato è venuto fuori un po' questo questo discorso qui no quindi lo lo sbaglio di fondo che c'è stato non non solo io che lo dico ma sono lo hanno detto in tanti ma la cura intelligente no e tutte le accortezze che puoi fare a livello medico però poi dici tu accoppia alla terapia ufficiale però pure un prenditi cura di tutti quegli aspetti che ho nominato prima basta il grado infiammatorio prenditi cura dell'intestino e tutto il resto e allora tutti vivremo felici e contenti tra l'altro nemmeno del benessere mentale dell'importanza dello stato di salute mentale perché credo che non ci sia salute senza salute mentale ma anche questo è passato non è passato questo messaggio no questo tocchi tocchi un tasto molto molto importante ormai la diciamo una volta si diceva rilassati che ti fa bene rilassati perché oggi si è capito veramente che curare l'aspetto emozionale della persona serve perché fa liberare addirittura delle citochine diciamo delle molecole che sono vanno contro l'infiammazione c'è addirittura è molto chiaro il meccanismo il meccanismo che c'è quindi meditazione esercizi di respirazione tutta una serie di cose ti fanno molto bene io ho visto che questo io dissi in una diretta che ho fatto veramente forse una delle prime io dissi queste parole ancora me le ricordo forti usciremo da questa situazione da questo ne usciremo prima o poi si spera rotti dal punto di vista mentale io dissi queste parole qua infatti quando ci fu la prima riapertura a maggio giugno diciamo dopo la chiusura di marzo eccetera eccetera io al tempo facevo consulenza online adesso non ne faccio più consulenza online perché visito in presenza poi mi porterebbe via tanto tempo che non ho e quindi vedevo molte persone in quel periodo essere stati dallo psicologo psicoterapeuta perché veramente c'è stato veramente un danneggiamento a livello fortemente emotivo e quindi questa è una cosa che va sottolineata e che si può fare veramente tanto perché se tu ecco io disegno sempre quando faccio studio tre sfere sono la sfera alimentazione la sfera movimento la sfera emozioni io per me la intraprendere un percorso di stile di vita perché dieta significa stile di vita ci sottolineiamolo non significa velocità fare la dieta dalle mille calorie andare a dimagrire in a deperire per così è un deperimento quello sette chili in sette giorni o sette chili in un mese quelli sono deperimenti vai a perdere massa muscolare pure quindi insieme al grassi a tutto cioè fai da un danno e poi l'effetto io io ormai è anche testato come un effetto dannoso perché se tu ingrassi dimagrisci ingrassi dimagrisci ingrassi dimagrisci e tu le tue coronarie perché c'è uno studio bellissimo su 76 mila persone che hanno dimostrato che quando fai questi effetti oscillanti in che ormai sono tutte così diete ipocaloriche poi ne riprende non solo quelli che hai hai diciamo sei partito da un certo peso ne hai perso e poi lo riprendi con gli interessi penso che avremmo l'abbiamo sentito tutte queste cose qui non sto dicendo nulla di nuovo ma questo fa fa veramente fa veramente male alle nostre coronarie c'è questo dovremmo dire lo dovremmo dire bene bene penso che mi sono perso nella mi sono perso in quello che stavo dicendo però era importante sottolineare questo aspetto allora daniela ci chiede per l'intestino vanno bene i semi di lino al mattino lasciate macerare tutta la notte si dice diciamo che sa assolutamente io riconsiglio in caso quando c'è una c'è un po di stitichezza aiutare un po l'intestino pigro ma sono il metodo della nonna no però bisogna capire cosa vuol dire daniela cosa c'è nell'intestino cioè noi dobbiamo cercare sempre di raggiungere a monte le cose perché se supponiamo c'è un esempio di daniela che ha scritto questa cosa qui dice ma se ho un intestino pigro un intestino che mi devo aiutare con i semi di lino e tutto il resto vuol dire che un intestino ma magari devi pensare pure la tiroide che si sta funzionando lenta perché la tiroide è una delle cose che dico spesso e quando è uno dei sintomi che quando la tiroide lavora lenta viene a rallentarsi anche la peristalsi quindi la domanda si fanno bene però cercare di capire a monte perché li stai prendendo e capire soprattutto la causa luigi ci scrive ci volevano tutti ammalati depressi per arrivare non diciamo questa parola perché rischiamo la censura come unica soluzione sì ma diciamo che la ammalate depresi ci siamo arrivati nel senso che purtroppo ho visto tante persone tante persone avere delle 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 problematiche l'ho detto prima ricorrere alle cure classiche antidepressive ad altre storie per psicosi belle profonde eccetera eccetera poi la se lo scopera questo non lo so ma sicuramente e se soprattutto quella parola che non nominiamo eh se si voleva arrivare a quel discorso lì ma io evito di io sono ormai da anni e danni che sto cercando di evitare danni nel senso che dal dal 2020 di evitare di parlare di vaccini ma perché a me non mi interessa l'argomento vaccini non perché sono anche perché si è creato danni al parlo di lo diciamo si è creato cercato una schiera secondo me non buona i pro vax e i novax ma io non in questo periodo io ci riflettevo tempo addietro ma perché siamo arrivati a scontrarci nelle piazze o a scontrarci ho visto persone prese con l'idrante e maltrattate soltanto perché uno voleva aveva perché molte persone avevano effettivamente sono state cattacolate messe nei novax secondo me in modo pure ingiusto perché perché ovviamente avevano timore nel nel farsi il vaccino quando persone vengono in studio da me mi chiedono dottore ma cosa cosa ne pensi io dico sempre io evito il discorso dei vaccini ma hanno paura molti hanno proprio paura non sono novax perché hanno idee diciamo di un determinato modo ma perché hanno semplicemente paura come è normale che ci sia la paura io una diretta che ho fatto con pierluigi rossi che stimo amico e tutto il resto e lui una volta disse una cosa seria io sono disposto non so se poi l'ha fatto non ci sono più sentiti eh tenuti in contatto su questo argomento di mettere un camper e di accogliere no forse l'ha fatto di mettere un camper di accogliere le persone che mi pongono delle domande sui sul proprio sulle su quello che che cos'è sui gli effetti non effetti tutto il resto perché le persone vogliono un po' di essere un po' rassicurati ma eh però abbiamo creato quello che si è creato daniel è stato una un due schieramenti che secondo me io non li condivido eh lo proprio l'idea dello schieramento intendiamo c'è proprio la l'idea del pro vax del no vax non lo condivido non possiamo essere divisi eh la problematica sappiamo che c'è stata no eh però a creare proprio degli schieramenti no eh io penso sempre alla 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 benessere della persona farla stare bene questo è il mio primo obiettivo no ehm e quindi il mio prodigare sull'allenamento del sistema immunitario era proprio per questo motivo qua quindi non entro nel discorso dei vaccini ma non 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 condivido neanche lo schieramento che c'è stato che poi ci ha portato poi anche a litigi tra tra le persone ci ha creato dei litigi inutili eh non si poteva fare un'esternazione c'è stato un clima anche di terrore sui social che non si poteva esprimere nulla eh perché mentre tu esprimevi una cosa magari ti prendevano per no vax se tu invece ti esprime un'altra cosa ti prendevano per pro vax quando tu stavi esprimendo semplicemente una cosa eh naturale sul sistema immunitario e quindi molte cose sono state un po' travisate e tutto il resto. Allora tu sei anche professionista e responsabile gift abilitato e responsabile appunto per il sud Italia. Sì diciamo io eh ringrazio sempre il eh dottor Speciani eh Luca Speciani perché ovviamente che collaborando ormai con lui da da dieci anni porta avanti la eh diciamo l'alimentazione gift gift è un acronimo per chi non ci sta seguendo gift sta per non è dono in inglese ma è eh G sta per gradualità quella famosa gradualità che ci vorrebbe in tutte le cose I sta per individualità F sta per flessibilità T sta per tono muscolare perché noi dobbiamo capire che il dimagrimento significa perdita di grasso e mettere massa muscolare quando si parla invece di eh deperimento si parla di come ho detto prima di perdere anche il muscolo e non è corretto quella cosa quindi è un acronimo e quindi io veramente lo devo ringraziare di cuore il dottor Speciani perché mi ha eh allargato lo sguardo io mi ricordo uscito dall'università io sono laureato in chimica farmaceutica e sono laureato in scienza nutrizione e sto e sono laureato in medicina e sto facendo il terzo percorso diciamo in medicina ma devo ringraziare il dottor Speciani perché quando presi la laurea in scienza della nutrizione eh non ero non ero ancora sui conteggi calorici mentre oggi la caloria si è visto che non ha un senso ancora parlare di calorie noi non siamo delle bombe calorie metriche che bruciamo il cibo non siamo delle fornaci eh ma noi dobbiamo cercare di capire proprio che noi siamo degli esseri umani che quando il cibo entra nel nostro organismo eh ecco fa fuoriuscire ormoni eh e quindi c'è tutta una serie una situazione più complessa ridurre tutta ad una caloria allora non va assolutamente bene quindi quando ascoltai eh dottor Speciani e lessi i primi suoi libri eh ovviamente mi ha mi sono affascinato questo discorso eccetto finalmente qualcuno che mi dice questa cosa qua è uscito all'università invece era tutto il contrario era tutto su conteggi della caloria fare la dieta delle 1200 guardare il metabolismo basale e quindi scendere di quelle calorie e allora ho detto bah non è la mia strada quella che ho che ho mi hanno insegnato e quindi devo ringraziare Luca per questo per questa cosa lui c'è soltanto bene in prova era dici ma tu non mi nomini mai non mi invece oggi lo nominiamo nella tua diretta è molte molte volte il nostro ospite il dottor Speciani ah ok quindi mi fa enormemente piacere perché è una persona veramente a cui tengo tengo tantissimo è una persona veramente che ti dice ti dice le cose eh come stanno ehm ed è una persona veramente di 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 spessore ecco torniamo un attimo sulla dieta antinfiammatoria a chi è rivolta la dieta antinfiammatoria è rivolta a tutti eh rivolta a tutti perché eh come ho detto prima siamo tutti un po' infiammati eh e non ce ne accorgiamo eh vivere in senso antinfiammatorio eh in stile antinfiammatorio dovremmo farlo tutti perché se tu vai a vedere un po' nel lo stile di vita delle persone dormono male non si rilassano vivono a mille questo stress sono attanagliate dallo stress e non sanno dire mai di no alle cose sovrappongono i pensieri tutto questo crea infiammazione perché lo stress da una parte quando dura poco è e alza un'azione antinfiammatoria mentre quello cronico quello che dura tanto tempo è quello che ci deve preoccupare perché noi purtroppo con la vita di oggi se non facciamo quelle cose che ho detto prima no saperci rilassare cercare di dedicare più tempo alla nostra persona e tutto il resto non facciamo assolutamente nulla dobbiamo ecco io dico sempre una frase dobbiamo essere noi protagonisti della 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 vita siamo noi responsabili della nostra salute ne abbiamo una sola e dobbiamo cercare di mantenerla al top allora è parlato anche dei tuoi libri prima ne abbiamo fatti vedere due ne faccio un uoente vedere dieta per il sistema immunitario e s o s ecco questi e questo questi immagini racchiude tutti praticamente no perché c'è la dieta antinfiammatoria c'è c'è la c'è il disinfiammarsi mangiando che è un libro di ricette che segue praticamente la la scia della dieta antinfiammatoria c'è il primo libro veri la dimagrimento parte dalla testa che è veramente stato il mio primo io lo coccolo perché è stato il mio la prima la mia prima scrittura poi c'è l'attivo il metabolismo mangiando che è molto importante cercare di capire come doversi muovere eccetera eccetera è quello che abbiamo fatto vedere prima che esso esiste immunitario per chi fosse interessato all'acquisto visto si possono acquistare anche sul tuo sito sì 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 c'è la c'è il mio sito dove ci sono tutti i libri in varie accoppiate sì vedi questa per esempio questa è la versione c'è scritto in bianca edizione aggiornata perché di ripeto è stato scritto ne è stato aggiornato tante volte perché veramente è stato un libro molto è ancora oggi il libro più venduto e più letto e comunque sono arrivate a varie versioni questo è l'ultimo questa con la scritta e per chi volesse contattarti comunque visto c'hai un bel sito anzi complimenti perché è un ottimo sito francesco caritano punti con tutte le informazioni utili e tutti i tuoi contatti sì perché del sito ci sono varie pagine dove dove varie c'è la spiegazione della dei punti della dieta infiammatoria si parla della tiroide si parla ci sono i miei contatti a parte quelli ma ci sono tanti tanti articoli che io scrivo quasi tre articoli a settimana poi anche sui social perché sui social sono veramente posto cerco di fare ecco lo dicevamo fuori onda che oggi bisogna fare corretta informazione perché il problema oggi è che ci sono tanti tante persone che si improvvisano e fanno cattiva informazione al contrario ti dicono determinate cose ma bisogna cercare di fare quella giusta dedicare un po di tempo alle persone vedi abbiamo risposto a daniela tante volte eh ma le persone come daniela come luigi eh come tante persone hanno bisogno eh di risposte e purtroppo oggi eh non si danno queste risposte te le dico una per tutte l'ho detta ieri quando ho parlato di di questi miei webinar sulla tiroide che sto facendo siamo arrivati al secondo cioè ci sarà poi il terzo e il quarto a luglio ma c'è venire da me e chiedermi dottore mi può spiegare che cos'è la tiroidite di Hashimoto cioè è una cosa grave c'è una cosa gravissima cioè questo dovrebbe essere endocrinologo eh è vero che io sto studiando medicina però io ancora non parlo di a livello medico eh perché ovviamente prima o o quando ho poi la laurea ne allora ne parliamo ma mh se uno mi fa una domanda di questa io capisco che tu specialista non gli hai dato neanche la 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 spiegazione di che cosa che cos'è questa processo autoimmune eh cioè nel senso non gli hai spiegato che c'è un attacco del sistema immunitario verso il self verso la tua ghiandola stessa che parte il tuo corpo cioè non gli hai spiegato niente e che tu eh anzi gli hai detto semplicemente una cosa sola cioè detto signora aspetti quando la sua tiroide non funzionerà più allora possiamo eh possiamo intervenire ehm questo è è una cosa che non non va bene perché temporeggiare su una malattia autoimmune l'ho detto proprio ieri è un grave errore perché da una malattia autoimmune se ne innesco una seconda una terza una quarta io c'ho persone che vengono dopo con cinque una persona di Roma me la ricordo con l'ultima malattia autoimmune in sorta il lupus come quinta malattia autoimmune partita sempre dalla la tiroide di Hashimoto come prima poi in sorta la psoriasi poi in sorta la vitiligie poi in sorta l'artrite reumatoide e poi l'ultima è il lupus perché tutti la fa poverina sta signora temporeggiato troppo è stata troppo tempo a essere a dire bene poi te le dico un'altra Daniel se vogliamo raccontare una cosa simpatica è una signora mi viene e mi dice beh allora io la tiroide di Hashimoto sono stato dallo specialista endocrinologo e mi ha detto eh vabbè ma eh si tratta del sistema immunitario devo andare dall'immunologo allora la povera signora va dall'immunologo sembrano barzelletto ma sono cose reali per far capire alla gente che ci sta seguendo come cosa succede nella realtà no perché poi eh questa signora va dall'endocrinologo e praticamente va dall'immunologo e praticamente gli dice l'immunologo guarda si tratta di tiroide io devi andare dall'endocrinologo questa signora ha viaggiato per un anno cambiando poi vari specialisti eccetera eccetera tra i due specialisti tra quello da che si occupava della tiroide e quello che si occupava del sistema immunitario e povera crista non è uscita non è uscita più finché ha temporeggiato quel discorso che ho detto prima è andata a finire come è andata cioè nel senso oggi bisogna affrontarle un po le cose no dire se tu hai un sistema immunitario che prima abbiamo parlato di sistema immunitario effettivamente la puntata era su questo tu hai un sistema immunitario che sta attaccando ciò che non deve attaccare ehm allora quindi entriamo nel campo delle malattie autoimmuni autoimmuni allora tu devi cercare di dire se il sistema immunitario è andato in tilt e quindi è andato in confusione magari perché si è creato una disbioso un'alterazione della permeabilità intestinale si è creato un discorso e abbiamo detto che la natura ha messo il sistema immunitario per il 70 per cento dell'intestino tu dovresti essere un professionista attento nel rimettere a posto a dare i segnali perché ecco perché la medicina di segnale no di speciali parla di segnali dare il giusto segnale eh per dire al sistema immunitario guarda ti stai confondendo quella è tua salvaguardiamo la tiroide comincia ad attaccare ciò che magari sta entrando dall'esterno che non dovrebbe entrare tipo patogene altre cose e e vai avanti così bene allora siamo in conclusione io Francesco ti ringrazio perché come sai l'obiettivo di queste interviste è dare un'informazione a 360 gradi su tematiche importanti coinvolgendo sempre esperti in materia come te quindi grazie ancora per aver accettato il mio invito grazie a te daniel e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito ciao ricorda alle persone di condividere questa diretta anche per chi la vedrà registrata nelle prossime ore i prossimi giorni perché è appunto importante diffondere le informazioni che ci ha dato il dottor garitano buona serata a tutti e ancora grazie a Francesco ciao